Una partita che aveva poco da dire, poco da aspettarsi da Arzaken a Pistoiese che si è giocata per la penultima giornata della campionato di Serie C, Girone A, con le due squadre ormai già salve da qualche settimana. Forse lo stimolo è quello di fare qualche punto in più per risollevare la classifica, ma le aspettative sono state rispettate perché in campo non siamo andati oltre lo 0-0 dopo 90 minuti di pochissime azioni degne di nota, con un gioco che si è sviluppato soprattutto a centro campo, mai nessun pericolo né dall'una né dall'altra parte. Una fase iniziale di perfetto equilibrio, così come del resto lo sarà poi tutta la gara. Qualcosa di più provano a farlo i padroni di casa, ma di fatto dalle parti del debuttante arancione Romagnoli nessun pericolo, complice anche il forte vento che complica spesso la traiettoria del pallone. La Pistoiese perviene solo verso la mezz'ora di gioco, ma se ne vanno su questo andamento poi i primi 45 minuti, senza particolari emozioni. Si riprende a giocare, i ritmi sembrano essere più alti. In avanti l'Arzachena con la Rosa al 46esimo, il suo destro termina fuori di poco. Rispondono gli ospiti, punizione di Cagnano, Picchi non riesce a metterci lo zampino come si deve. E poi momentè a involarsi verso la porta con la palla al piede, fermato in modo scorretto dalla Rosa a limite aria. Giallo per lui, punizione per la Pistoiese. Batte lo stesso numero 11 arancione, ma la sua conclusione è debole e deviata dalla barriera. Termina in corner. Romagnoli interviene poi su Gatto e si parte con i cambi. Per i sardi, nuvoli e loia al posto di Gatto e Taoferra. Per gli arancioni, Peterman e forte per Luperini e momentè, ma poco cambia. Si segnala la girata di Sanna al 73esimo, palla di poco al lato del palo. Sul finale, più e forte in contropiede si fanno vedere davanti, ma tutto vano, due minuti di recupero e poi triplice fischio. Posta in palio divisa e tutto, sa quasi di una rivederci alla prossima stagione. In attesa però dell'ultima giornata, quella di sabato prossimo, che vedrà la Pistoiese impegnata a Melani contro l'Arezzo, mentre i sardi in trasferta a Gozzano.